Ciao a tutti ragazzi, io sono Tantasei e benvenuti in questo nuovo episodio di Impact Flags che è una nuova serie che è incentrata come la Galerie Unskies, come la Material Energy, sull'Hartcore Questing Mod quindi una serie di quest da completare per poter andare avanti e quindi non la faremo su un modo normale in Minecraft perché la serie è fatta su un modo normale in Minecraft? E' una figata, saremo soli perché, ovviamente sto facendo le serie multiplayer però è un po' complicato portarla avanti ma sempre ci troviamo assieme, penso che la cosa migliore da fare è sia fare quest da solo per poter fare più velocemente per poter portare più recenti avanti rispetto ad altre serie come per esempio la Manage 8 Craft oppure la Material Energy che richiedono la prestazione di tutti e tre partecipanti slash 4 quindi, ok, allora è molto complicato sull'FDB, basta cercarlo, comunque farò vedere come si fa magari in futuro e per adesso andiamo avanti, abbiamo quindi questo questing, abbiamo oltre alle quest una reputazione non so bene a cosa serve sinceramente, quindi non chiedetemelo e andiamo a vedere le quest ok, se non lagga magari e andiamo con Builders possiamo scegliere modalità survival o Builders? io sinceramente farei survival che è più figo bisognerà un po' di dort ok perfetto facciamo manual subit e clemiamo un cuore bambino in più what the fuck ok e abbiamo anche questa nuova quest per esempio prendere questi qui che sono come dei dei polisacchetti dove possiamo attirci la roba sacchetti ok e oh, abbiamo un piccone, una spada e una berax vediamo un po' la prossima cosa sta a fare so one ok, dobbiamo riparare i nostri tools quindi semplicemente facciamo in questo modo ok, uno e due presumo ah, facciamo quello e l'altro a sto punto tanto un in meno, un in più chi si ne frega ok e vediamo un po' ok, abbiamo fatto abbiamo fatto entrambi quindi in teoria possiamo fare quale prendiamo? mmm io prenderei il pickaxe perché dal suo punto di vista è molto meglio questo ok e manche un tool perfetto come si fa a potenziare? tranquillamente si mette questo qui si mette questo qui e pam abbiamo potenziamento eeeh this tool has incorrect data cosa dice? eh, l'ho messo vabbè, insomma dice che è bombato e ok, l'ho fatto e abbiamo foraging ci servono li devono da uh, buono cosa da mangiare? anche due bucket uh, figo eeeh seed barley seed e dandelion ok, penso che possiamo trovare tranquillamente qua vicino e prendere un po' di legna anche se è possibile tanto, eeeh abbiamo questa lamberax quindi legna no problemi eh, però questa magari sarebbe utile per il cibo comunque prendiamo l'endelion e il problema è trovare l'endelion adesso perché vi ho abbiamo soplenti e presto questa roba la lasciamo qui magari mettiamo in questo modo che io sono abituato a fare così ok allora, bisognava due dandelion e poi di grass tranquillamente lo troviamo grass, dove sei? un sapling a muso perfetto noi troviamo direttamente i sapling nella cosa non troviamo i seed oddio io trovo i sapling non trovo i seed ah, eccolo qui un po' di culo per trovare i seed non trovo i sapling ok, barley seed perfetto mi sono venuto barley perfetto abbiamo tutto quanto giusto? no, ah giusto qua ok abbiamo tutto ciò che ci serve ma non la submit e scegliamo un un melon perché è più figo uh, figo eeeh uh buono, buono questo abbiamo un cibo vediamo che il cibo in questa serie sarà un po' diverso da un normal che conoscete perché è sostanzialmente così più ne mangiamo più abbiamo tipo bisogno di amare cibo quindi sempre dobbiamo cambiare un po' di cibo e dobbiamo fare molta molta attenzione ora voglio buttare giù questo albero ciccante che è dalla 1-7-10 e sento strani esseri qua vicino mmm qui sotto sono qui non ho niente dove sono però ma il fatto che devo prendere un po' di roba qua e voglio andare a uscire un paio di pelle corre ma no sta qui sotto pig muori pig ok ah sono qui sotto ragazzi non so bene perché ma sono qui sotto ok e oltre questo perfetto abbiamo uh abbiamo un sacco di quest nuove get some not too close piston gloving stone tantissima roba da fare oh mio dio beef beef e oxapli quindi abbiamo trovati manco uno però possiamo comunque trovarli tranquillamente se buttiamo in questo albero e io buttiamo in questo albero ok e mi serviranno anche altre cosette allora l'acqua la posso già prendere non è un problema semplicemente basta prendere dell'acqua da questa parte ok perfetto e sorry se lagga un pochetto però abbiamo appena iniziato a giocare quindi potrebbe essere un problema ma no subito uh roba uh ok mi chiedi sì bello viaggio e vediamo un po' cos'altro c'è ok lava va bene piston è un pistone un po' complicato da fare e gloving no dobbiamo andare pure nel nether dobbiamo andare pure nel nether sì nel nether ok mi servirà anche qui un cotton seed e un seed normale però mi da un sacco un sacco di roba e dovrei anche un paio uh copper buono porkchop dovrei avere il porkchop ancora un paio di porkchop se uccido con il maiale probabilmente di shop shop prenderti ok diamo 4 3 su 4 merda mi sono un altro maiale maiale dove sei e quelle lì guarda che sono pronti a essere beccati da mia furia c'è anche la botegna di botegna non botania eeeh perché perché il seed l'ha detto così tipo non chiedetemi il perché tanta gente che hanno assoluto botania normale invece botegna perché figo ok un po' di bistecche ah questa è un'altra omida indietro c'è della roba perfetto cioè come se avessi il magnet uh torce o go perfetto mi piace uno stack di ah ok uno stack di torce perfetto perfetto non male posso pensare così perfetto ottimo mi piace solo che adesso voglio controllare una cosa questa abbiamo da fare nap timing eh wool 6 porca vacca sono un bel problema però abbiamo un gialletto chi se ne frega i dilettini ce li abbiamo voglio andare a cittare un po' di un pecore però potrebbe essere utile pecora muori pecorella cattiveria ok e ricordiamo che le nostre pecorelle ci danno anche del cibo quindi una figata quelle diverse non le prendiamo tanto non ci interessano un po' di qua ok siamo consentiti a dover farci una casa perchè abbiamo un sacco di roba già adesso in mano via qua amichetta ok e ci danno un sacco di roba un sacco perfetto non sono belle le loro beef dobbiamo darle vero 4 beef ok oh abbiamo tutto perfetto ci danno stick e mutton perfetto nice e mettere un po' di roba qui dentro sinceramente tipo questa roba utile utile nel senso che non è utile per niente oddio ah mi da anche il cibo mi da buono ah mi dico che quanti cosciotti mi da oh mio dio questo mi serve quanto mi da oh da un bel po' mi da ah ok come pensavo si bugga nel senso che non è fatto benissimo l'evento di tweak per la per la per la expansion ciao amico morire anche tu cattiveria anche ok e abbiamo un bel po' di quest da fare sinceramente e questa è una repeatable significa che posso ripeterla quanto volte voglio e no questa questa no questa non la posso fare ah ogni 6 ore la posso fare perfetto ok e roguelike uh una fraking pen perfetto figa questa e allora sicuramente vediamo un po' qua villager se è un smeraldo porca vacca non è un bel problema fare questa qua per fare tutta sta roba ci vorrà un bel po' davvero quindi cosa facciamo adesso ci devono un paio di zombie però non penso sia la cosa migliore da fare quindi probabilmente andrò un po' in giro a trovare una piccola casetta vicino non sono sbagliato ma sinceramente potevo sceglierne uno migliore però ci accontentiamo di quello che ci dà la natura pom addio troppi per essere una serie in cui tipo c'è poca roba sinceramente perché tanto tanta roba tanta roba ok un po' di cibo potrei prenderlo sinceramente vedete adesso lo prendiamo guardate quanto ci dà indietro ci dà un sacco di saturazione che è molto buono per me che io mangio sempre ottimo potrei mangiarlo di nuovo è la mia situazione però non posso farlo perché ho la barra piena ok allora abbiamo un po' di cobblestone sicuramente per iniziare e voglio riuscire a uscire quei pochi zombie per poter riprendere sono le potenzialmente con gli zombie sì con gli zombie e il problema è dove li provo ho trovato un ragione nel loro like dove potremmo usare fare un'altra quest oppure sono una cacca guardate quanto roba ci arriva addosso senza l'armatura odio per cittarsi tipo è bruttissima qualche cosa però è anche cica figa un sacco perfetto ciao peca sono una persona ecco devo prendere un po' di roba perché sempre muoverò ben più soprattutto cibo e in teoria dovrei poter resistere per un bel po' di tempo ora non so ho detto se è hardcore oppure no quindi voglio essere completamente sicuro di questa cosa e non voglio provare muorento sinceramente quindi ok ok un po' di roba anche qui e sta facendo notte quindi ho prendere queste canne da zucchero che ho fatto già qui praticamente ho trovato una piccola caverna qua vicino quindi ok canne da zucchero mi sono state molto utili ok e questa qua non posso prenderla non posso prenderla perché c'è il manillium però ok vorrei andare a ricerca di un po' di minerali sinceramente quindi farei farei così farei entrarei in questa piccola caverna uh lava perfetto mi serviva prendo un po' di armatura e abbiamo un po' di ferro anche allora cosa farei farei un attimo una cosa così prendere un po' di cobblestone per il momento ok e farei in questo modo perfetto facciamoci una piccola cosa qui ok possiamo tipo stare al sicuro ok e facciamo così ottimo no possiamo le nostre robette saperemo dove andare non c'è la minimappa sostanzialmente penso perché non abbiano avuto i diritti per metterla io ho la metteria sinceramente perché mi piace ed è molto molto bella la minimappa quindi ok sì forse lo faccio ok un po' di luce luce fu perfetto e voglio farmi due chest se possibile solo che mi servirà farmi un paio di un paio di cosette prendo tutta la mettiamo questa facciamo quell'altra crafting station perfetto ci c'è un paio di chest velocemente uno due e una la mettiamo qua perfetto e qua ci mettiamo il cibo per esempio tipo questi 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 e questi da questa parte invece ci mettiamo tutta roba che non ci interessa tipo questa roba ok e anche quelle torce quelle torce mi serviranno e il letto lo metterei anche perché di giorno spawnano meno mob quindi potrebbe essere buono dormire e vediamo un po' qui abbiamo qualche roba giusto lo prendere a mano se no poi ci sono cose brutte e abbiamo anche un po' di cibi ok cibi no dannellio non penso equivalga a un cibo poi non è dannellio ma è un poppy credetemi perché si chiama poppy da uno sette dieci perché boh boh non si sa bene ok io vi saluterei anche per questo episodio cioè per questo episodio solamente perché non ho fatto tanto questo e anzi no prendere la che abbiamo già a sto punto prima di chiudere l'episodio e infatti un attimo qualcosa qua diciamo così ok un po' di questo copper lo prenderei perché potrebbe essere utile ah cavolo dovrei scendere di qua dovrei scendere mettiamo un po' se lo riusciamo a fare in questo modo un po' la discesa un po' strana però poi ci devo salire anche a questa discesa quindi facciamola bene bene oh merda lì c'è una discesa ancora di più non sembra esserci nessuno quindi questa cosa potrebbe essere utilizzata a nostro vantaggio se magari non cadiamo nella lava siamo anche felici siamo felici ok ho preso la lava perfetto e ok possiamo talire su per il momento va lasciamo stare tutte queste cose opla perfetto andiamo su e per il momento mi stopperé qui facciamoci un po' di queste cose qua meno non cadiamo perfetto ok facciamola a quest veloce e veloce e poi vi saluterei andiamo un po' a quest mi da se non sbaglio ok altre robe bam cosa mi da sta cosa cold touch ah penso tipo diventa l'acqua cold ok capito cosa sono perfetto allora per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate se volete lasciate un bel like e ricordate se avete consigli o altro scrivetemi un commento noi sono tassi e tutto ciao ciao ciao